Massimo Riberi, candidato sindaco a Limone Piemonte, come affronterebbe i prossimi cinque anni se eletto? La nostra lista ha una forte convinzione. Il vero cambiamento è riuscire a creare un'amministrazione pronta di intervenire concretamente dove vi siano dei problemi e che non sia più vista come estranea al comune ma al centro di esso. Ecco, questo sarebbe veramente ciò che io vorrei che si realizzasse una vera cittadinanza attiva. Noi vorremmo che il comune fosse veramente la casa dei limonesi, un luogo dove ciascuno venga accolto, informato e consigliato con chiarezza e cortesia. Limone è un comune turistico. Quali sono le priorità da affrontare in questo ambito? Ma occorre partire dalle cose fondamentali. Potrebbe sembrare scontato ma non per tutti lo è. Limone deve essere un paese votato al turismo e su questo dobbiamo focalizzare i nostri impegni. La questione del valico del tenda o quella relativa all'ingresso del territorio nel patrimonio dell'UNESCO devono essere viste proprio in quest'ottica. Limone deve cogliere ogni occasione per crescere turisticamente, per poter crescere come comune. Il comune di Limone Piemonte ha indubbiamente un rapporto a doppio filo con la LIFT. Come pensate di gestirlo? La collaborazione con la LIFT, la società degli impianti, è fondamentale. Fondamentale per affrontare le nuove sfide del turismo invernale e non solo. Noi vogliamo proseguire sulla falsariga dell'ottimo rapporto che si è venuto a creare tra la società degli impianti e il comune negli ultimi 4-5 anni. E supportare ed avviare attività sportive che possono attirare giovani italiani e stranieri. Noi non abbiamo sicuramente la sfera di cristallo, ma crediamo che Limone continuerà a nevicare e che il comparto neve non sia finito, ma sia parte fondamentale del nostro futuro. Chiudiamo con l'appello al voto perché i cittadini di Limone e Piemonte dovrebbero votare Massimo Riberi, sindaco. Guardi, vorrei fare un appello al voto di poche parole, ma chiaro. Perché votare la lista Viviamo Limone? Perché siamo una vera ed affiattata squadra di persone che amano Limone e vogliono migliorare il posto in cui vivono e lavorano. E questo attraverso un programma ben definito e conosciuto da mesi e non improvvisato. Grazie a tutti.